Non restare chiuso qui Cento metri più in là Uno risposto Pensiero Pessi, 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 pessi Nella notte dei segreti fai attenzione Brutto Non si dico neanche, guarda Ha fatto finta di niente No, fai finta di niente e ce lo troviamo Da Taylor Swift a Parigi Ma ti pare giusto? Eh, ci avevo degli inveni Ma io lo sapevo, ma io lo sapevo Me l'ha detto lei Ha fatto finta di non venire a Malmo Per andare a Parigi a vedere la prima La prima europea Parliamo subito di questo, dai Parliamo di Taylor Swift per cominciare Perché c'è finalmente qualcuno di noi tre Che l'ha vista dal vivo Per chiederà a Milano, a San Siro Però com'è Andrea? Allora, è uno spettacolo diverso dagli altri Cioè, piaccia o non piaccia Taylor Swift L'Eras Tour è un concerto Che si differenzia da quello che abbiamo visto finora Si differenzia per due cose Uso del palco e uso dei video Il palco è classico Cioè, c'è il megaschermo con la passerella Il problema è che L'azione si svolge tutta su un palco centrale Quello che sta tra il palco principale E il solito B stage che sta in mezzo Si svolge tutto in mezzo Questo cosa porta? Che il tuo sguardo è attirato tantissimo dal megaschermo Perché sul megaschermo non è più l'era di MTV Quindi non ci sono più i videoclip C'è solo lei in dimensioni gigantesche E quindi a volte I musicisti sono a palco però I musicisti non sempre sono a palco I chitarristi spesso seguono lei E l'azione si svolge proprio in questa passerella centrale In questo diamante centrale Non è più sul palco il concerto Questo è un concetto innovativo di Taylor Swift E il tuffo nella piscina Il tuffo nella piscina è uno dei momenti in cui ti dici Mamma mia Lei a un certo punto si tuffa Evidentemente cade sotto il palco Non lo so, ci sarà una botola che si apre E vedi lei che nuota su questa passerella LED È uno dei momenti Oltre al momento iniziale In cui entrano dei performer Con delle specie di ali che muovono Bellissimo, molto Cirque du Soleil A un certo punto loro si chiudono Come se fossero i petali di un fiore Pam, si apre E salta fuori lei È la partenza del concerto È confermato il fatto che non sia per niente Diciamo che sia un po' Assessuata in questa sua performance? Assolutamente Non c'è sfoggio del corpo Da parte di Taylor Swift Questo è un lato positivissimo Specialmente in questo momento Io credo che sia la scelta giusta Quando hai un repertorio così seguito E quando hai un pubblico che Non so come spiegare A me dà l'idea di una chiesa Forse ce l'abbiamo già detto Cioè di qualcosa che sia davvero Talmente inclusivo Che non è quasi importante Che cosa dici Ma è il fatto di essere Con lei è cambiato il concetto di popolarità Con lei è cambiato il concetto di popolarità Sono d'accordo Se ci pensate Negli anni 80-90 Madonna era famosa E la conosceva Magari non conosceva le canzoni Anche la nostra mamma Sapeva chi era Madonna Che cosa aveva fatto Oggi Taylor Swift Ha creato Una community enorme Fedele Leale Profondissima Gigantesca Non è una cosa di nicchia Perché è l'artista numero uno È l'artista che in questo momento Ha più canzoni nella top global di Spotify Sei Ma non solo Ma poi insomma Però Aspetta fammi finire Il tema è che lei ha costruito questa cosa Ma se tu sei fuori dal recinto Pensi che Dua Lipa Che vale tantissimo Ma meno di Taylor Swift Sia più importante Perché conosci più canzoni di Dua Lipa Ma infatti questo è Come dici tu La nuova Come dire Il nuovo step della popolarità Ma è una cosa difficilmente realizzabile Da altri in futuro E poi secondo me Lei ha quest'altra cosa Che La community di Taylor Swift Da che cosa è legata Soprattutto dai testi Non a caso Ha citato la poesia I poeti Nel titolo dell'ultimo disco The Torture Poets Department Il dipartimento dei poeti torturati Perché È difficile poi Se non sei dentro nella community Capire tutti i testi suoi Che sono come Dei cunicoli sotterranei In cui tu entri In una canzone E poi all'improvviso Dici Ma questa frase Lei l'ha già detta Da un'altra parte In un'altra canzone Puff Ci sono dei rimandi Ci sono delle cose È una storia Dentro la storia Che effettivamente È una nuova visione Della popolarità E anche della musica Un altro tema di lettura Parliamo sempre Di cose successe all'estero Perché se io Sono stato a Parigi Tu stavi a Malmo Io stavo a Malmo A due passi Da Copenhagen Per seguire L'Eurovision Song Contest La edizione Più vista di sempre Dal punto di vista televisivo È stato un bel casino Un casino via l'altro Che dal punto di vista giornalistico Diciamo tutto bene Perché ci ha fatto Veramente scrivere Fare Bregare Al di là Di quelle che poi sono Invece Se posso dire Un po' la messa cantata Come voi sapete Dell'Eurovision L'Eurovision ha Degli orari Dei temi Dei minutaggi Delle prove Controprove Proprio perché niente Esca dal seminato Joost Klein Il cantante Dei Paesi Bassi Noi diremo Olandese Invece Cacciato Dopo le seconde prove Perché mal si è comportato Nei confronti Di una camera woman Perché Lì c'è un po' C'è un po' Di Eh non si sa bene Che cosa è successo Neanche da Malmo Non si è capito Non si capirà mai Sì perché praticamente C'era l'accordo Che lei Non dovesse Questa camera woman Andarle così Andare così vicino a lui Mentre finiva la performance Infatti sul palco Non si è visto niente Lui aveva chiesto Questa cosa Per essere libero Di poter andare Su questo in camerino La camera woman Che avrà seguito Invece Diciamo le linee guida Dell'EBU Dell'Eurovision Broadcasting Union Lo ha seguito E lui l'ha malamente apostrofata Questa cosa è bastata Affinché Il regolamento interno di EBU Dicesse Il signore si è mal comportato E quindi va cacciato Sì Te l'ho detto anche Una cosa Paolo Piuttosto importante Qui magari anche un tuo commento Ci sta anche di Andrea Insomma Quello che è successo E naturalmente poco Se ne è parlato In Italia O in generale Negli altri stati Ma è importante essere lì Per capirle Queste cose Io sono rimasto colpito Che il TG1 Olandese Abbia aperto Non solo Con questa notizia Ma sono state Le quattro notizie A seguire Cioè l'Olanda Fuori dall'Eurovision È diventato Un caso nazionale Ce l'hanno con noi Il più importante Devo dire che loro Hanno sottolineato L'emittente olandese Ha sottolineato In maniera chiara Che non vuole giustificare L'errato comportamento Sì Ma che l'esclusione È sembrata Troppo punitiva Infatti hanno chiesto Al Su chi possiamo dire Aldo Cazzullo Bruno Vespa Non lo so Un grande commentatore Il più importante commentatore Della televisione Olandese Di commentare Questa cosa E si è lanciato In un'intemerata Dicendo che c'era stato Un errore Nei confronti Della nazione Olanda Cioè non si fa E non è stato L'unico errore Luca Perché c'è stato Anche quello Della Rai Che ha trasmesso I risultati Del televoto Durante la serata Della semifinale Cosa che non si fa Sono segretissimi Tra l'altro Quello che ha fatto Veramente la differenza Non è soltanto La fuga di notizie Che mai Che fuga è stata Cioè Che alla fine Di questa fuga Si è capito che La cantante israeliana Aveva preso Quasi il 40% Del televoto Cioè quattro volte Il secondo Classificato Che era Quello dei Paesi Bassi Che significava Che c'era Un'attenzione Molto particolare Il problema è Che questa cosa qua Un po' È stata La sfortuna O comunque Ha inficiato Il lavoro di Angelina Ha pagato Angelina Secondo te Settimo posto Di Angelina Mango Ha pagato L'error Rai Ma soprattutto Ragazzi Una cosa Voi ci siete stati Comunque L'Eurovision Non è mai successo Finora Che una nazione Non abbia dato 12 punti Ad Angelina Cioè l'Italia Non ha mai ricevuto Il massimo Dei voti Quello che Mi ha colpito Colpito anche a me Ha colpito tutti È che Angelina ha fatto Il punteggio Con i voti Raggiunti Di volta in volta Non con la Designazione di re Certo E a un certo punto E l'unica nazione Cioè le due cose Sono state Zero punti Al televoto Dell'inglese E zero Assegnazioni Di 12 punti Ad Angelina Non era la prima volta Che accadeva uno zero punti Agli inglesi Ma era la prima volta Che un italiano Non prendeva 12 punti E secondo Non me Secondo tutti Questo è stato dovuto Al fatto che insomma Le varie nazioni Abbiano fatto Un piccolo segnale Non l'abbiano fatto Ma un piccolo segnale Per dire Si è sempre stato Cartello A Eurovision Infatti In tutti gli anni Però poi Non ci dimentichiamo Un'altra cosa Perché bisogna dirle tutte È la presenza Della politica Ragazzi Un'enorme presenza politica Non ultima Greta Thunberg Che di lavoro ormai Fa le manifestazioni Esatto E che era presente Alla manifestazione Pro palestina Vi posso garantire Che la cosa Che mi ha lasciato Stupito Abituati Come siamo Alle manifestazioni Insomma Perlomeno in Italia La polizia Ha gestito In maniera Perfetta Incomiabile I manifestanti Li ha lasciati manifestare Urlare Sventolare bandiere Non ha usato La forza Mai E ha fatto sì Che appunto Questo Corteo Corteo Arrivasse La doveva arrivare Non così distante Di fronte Alla Malmorena Non ha usato La forza Anche perché Non la usavano I manifestanti Perché insomma Era un combinato Disposto Ma al di là di questo La cosa che a me Colpisce E che Pensate che Il motto Di Eurovision Quest'anno Era United by music In realtà Alla fine Magari Siamo stati uniti Dalla musica Ma separati In tutto il resto Disunited Esatto Quindi credo Che qua Ci si debba Un po' Rivedere L'atteggiamento Insomma L'assetto Non abbiamo parlato Però del vincitore Luca Nemo Rimarrà Nemo Nemo profeta in palma Nemo è un nome Che porta fortuna Il capitano Nemo Poi Nemo Il cartone animato Nemo Insomma Nemo è un nome Che porta fortuna Lui è un cantante Autoproclamante Assolutamente Non binario Ha portato La sua forza Diciamo di ragazzo Che arriva Da una nazione Come la Svizzera Che dall'88 E peraltro Céline Dion 89 Céline Dion 88 88 88 Céline Dion Cantava Per la Svizzera Quindi 36 anni Ed è arrivato Veramente con un plebiscito Anche qui Io non ho mai visto Tanti dodici Arrivati Anche da noi L'Italia Aveva dato I dodici a Nemo Arrivati Ad un cantante Comunque Andata viene così Una cosa Che ci tengo a sottolineare Spero siate Anzi ve lo chiedo D'accordo con me Dobbiamo Mettercela via Il pop italiano Che vuol dire Anche Angelina Che vuol dire Le canzoni Che sentiamo a Sanremo È un pop Ma non è La cartolina Del pop europeo No Il pop europeo Quello che ascoltano Altre nazioni È quello che avete visto All'Eurovision Che sia trash o meno È quello lì Noi siamo Sì ma noi Siamo cresciuti Noi intendo Come produzione italiana Come musica italiana Siamo cresciuti Negli ultimi 15 anni Molto di più Di tante altre nazioni Ma non sono convinto Che sia questo Io penso di sì Perché se tu pensi Che ne so Adesso Con tutto rispetto Alcuni cantanti italiani Andati a quello che era L'Eurofestival Trent'anni fa Musicalmente erano Abbastanza omogenei Magari dal punto di vista Dei testi C'era una ricerca Un pochettino Più sofisticata Ma erano Abbastanza omogenei Adesso Il pezzo di Angelina Mango Per Realizzazione Intonazione Presenza sul palco Scenografia Corografia Tutto E' un pezzo Internazionale Ma secondo me Il tema è che Non è che il pop italiano E' più avanti del pop Cioè è chiaro che E' più avanti del pop Di alcuni piccoli stati Anche per gestione Di numeri Eccetera eccetera Non è più avanti Del pop francese E' che ai francesi E agli inglesi Non interessa nulla No Agli altri paesi Non interessa Mandare il meglio Che hanno Allora Questo E' un'altra cosa E' Molto poco europea Come Come mentalità Molto nazionalista Il fatto io Mi tengo il meglio Per me Non ve lo Non ve lo mando a voi E invece noi Mandiamo quello Che riteniamo Essere il nostro meglio Ma secondo me Perché negli altri paesi C'è Come dire Il pop francese Funziona nel mondo Senza bisogno di Eurovision Il pop italiano Ancora no Ha avuto bisogno Di Eurovision Per lanciare I maneskin Ha avuto bisogno Di mamma E chi funziona Di italiano all'estero Che non è passato da lì Diciamo che Pian piano Ci stiamo muovendo Trovami un nome Che funziona In Europa Di cantante italiano Che non è passato da lì Tranne la generazione prima Cioè di quelli di adesso Maneskin sono passati da lì Mahmood è passato da lì Chi altro funziona all'estero? Beh certo Nessuno funziona all'estero Però io Se mi dici Dimmi un cantante francese Che funziona in Italia Io In questo momento Io al volo A me non viene in mente Poi Non francesi Ma francofoni Io però posso dire una cosa E vorrei con questa Magari chiudiamo Il punto Eurovision Ma anche perché Ne abbiamo parlato In maniera esaustiva Credo che dopo L'Eurovision Di questa edizione Non so se avete notato Una cosa importante Quanto sia stato fischiato Il presidente Eurovision Ogni volta che parlava E credo che E quelli non c'erano solo I fischi per l'Olanda Per Israele Contro Israele Lì c'erano dei fischi All'organizzazione Le voci che si sono raccolte All'ultima conferenza stampa finale E tra i banchi Degli uffici stampa Dei vari agglomerati stampa Delle varie nazioni Erano anche C'è bisogno Come avete detto Di una restaurazione L'Eurovision Deve cambiare qualcosa È una macchina Mastodontica Molto uguale a se stessa Molto precisa Ma non voglio immaginare Che quei fischi E quelle disapprovazioni Non siano arrivati Piani al Posso chiudere? Vai La scaletta di chiusura Della finale L'orario di chiusura Era 0.49 Sì sì Alle 0.50 O 51 Sì sì Sono chiusi Se pensate a Sanremo Su quello sono sempre La precisione Su quello sono preciso Ma vi faccio Un'altra domanda Andiamo Facci Votate Dovete votare Secco Drake o Kendrick? Ah io Kendrick Tutta la vita Ah beh 3 a 0 Verdetto Come si dice Nella box Si dice Verdetto No contest No perché c'è stato Questo diss Pazzesco Due album di dissing Solo per mandarsi A far Diciamo A far prendere le patate Come diremo In maniera così educata Ma Kendrick Ha un alto spessore Politico Culturale Tra l'altro È nato Questo dissing È nato tutto Da una cosa Pazzesca Cioè dal fatto Che Drake Inizialmente dice Siamo tre grandi E gli risponde Mesi fa A marzo In un pezzo Di Future Gli risponde Kendrick Dicendo Non ci sono Big 3 It's just me E da lì È partito E da lì è partito Questo dissing Con un paio di pezzi A testa Ma in un weekend Se ne sono sparati Tipo 9-10 Cioè si può fare Un bel album Di dissing Però funziona anche Con i numeri Cioè è la prima volta Che un dissing Dà numeri Cioè Kendrick È secondo in classifica Nella global di Spotify Con Not Like Us Beh certo Evidentemente poi Questa cosa qua È un taglio Secondo me È quasi una mannaia Su chi A non capisce Così tanto bene L'inglese B non conosce La storia dei due Tre magari fa fatica A fare uno più uno Sui dissing Però Cioè basta Ma secondo voi Ci sarebbe qualcun altro In grado di fare Una cosa del genere Secondo voi In Italia potrebbe essere Fatta una cosa del genere Beh sì Dai sì Ma non hanno il coraggio Di farlo in Italia Ecco Anche quelli che si odiano Non se la dicono Perché hanno paura Come non si parla di politica A me piacerebbe Vedere due Che si odiano Tipo Beh ma se tu pensi Anche solo Quando c'è stato Anni fa Fedez Contro Gue Contro Marra E c'erano Fedex Jax Tra l'altro era nato Da una cosa Dette Fedez Jax Era nato Da un'intervista Che avevo fatto A Marra e Gue Però poi Sì Se le sono dette Su Youtube Ma mai in un pezzo E tra l'altro Fa bene anche alla classifica Perché Kendrick Tolti i nuovi pezzi Cioè Tolto questo Che ha il debutto Numero due Ha fatto il suo repertorio Più 49% Su Spotify Perché vanno a cercarlo Vanno a cercarlo E quindi è cresciuto Mi piace Tu chi vorresti vedere Che si mena Tra gli italiani Non che si mena Però Che si mena Diciamo virtualmente Fabri Marra Eh ma Dici che si odiano così tanto No Non si odiano Non si odiano No Non hai capito Ah ti piacerebbe Visto la loro capacità Di scrittura E quanto sanno giocare Con le rime Se Marra Se Marra Se Marra e Fibra Si mettono a fare Dei dissing E mentre cosa viene fuori Cioè è molto divertente Da questo punto di vista Ma ragazzi Una cosa velocissima Non so se anche voi Nelle vostre caselle postali Parlo di Quelle che avete giù Dal portinaio Sono arrivati Così tanti libri di musica Come in quest'ultimo mese Stanno scrivendo Di musica tantissimo Io l'ho visto Me ne sono accordo E sono andato Al Salone del Libro A presentare Uno di questi libri Qualcuno che è stato a Milano Qua a presidiare la sala No Che cosa hai presentato A Torino Ho presentato il libro Diciamo L'autobiografia Di Robi Facchinetti Che compie Ragazzi Io so che non ci credete Ottanta anni Ma no io ci credo Cioè Robi Facchinetti Ha compiuto ottanta anni E non è che dice uno Che ha fatto la prima canzone Due anni fa No Però voglio dire C'è un'energia pazzesca Io non ci credevo Perché ha un'energia incredibile Cioè è uno che Era già Robi Facchinetti Durante la prima guerra mondiale Certo Lì ha ottanta anni La cosa Ma qual è la bomba Dell'autobiografia Cioè qual è la cosa Che c'è dentro Cosa dice È stato quando I Poo Erano in una rampa di lancio Avevano cinque date Al Sistina Riccardo Fogli Stava vivendo Questa storia d'amore Super preparazzata In quel momento Con Patti Bravo La band Credo anche specialmente Facchinetti Hanno chiesto Insomma Di tenere distinte La vita privata Dalla vita Professionale Anche perché In quelle idate Ci sarebbe stato Ci sarebbero stati Tutti i critici musicali Che loro raccontavano Molto di più Di adesso E Invece Alla prima Patti Bravo Era seduta In prima fila Poco come Poco come Yoko Ono Esatto Nel film dei Beatles E lì così Esatto Lui ha preferito Il pensiero stupendo Lui ha preferito Il pensiero stupendo Salvo poi Ritornare ovviamente Adesso È nei Poo Ma C'è un'altra cosa Posso dirlo A me è piaciuto Moltissimo Questo racconto Che mi ha fatto Ha detto Facchinetti Dice Io in giro per il mondo Ho sempre voluto Testare Qual è la 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 popolarità Dei Poo No Anche la mia popolarità Una volta ero sulla Moraglia cinese E Eravamo qui Di fronte all'immensità Della Cina Milioni Migliardi di chilometri Guardati Il cielo terzo Limpido Io Ho guardato E ho detto Non restare chiuso Qui Cento metri più in là Uno risposto Pensiero No Beh questo è bellissimo Sulla Moraglia cinese Ed erano Due o tre torinesi Oggi sono quello Delle domande A scelta secca Questa è la settimana Della finale di amici Ale E la domanda secca Qual è? Chi vince? Chi vince? Holden Petit No Vince Holden Allora per te Io invece sono Non si può prevedere Esattamente chi vinca Onestamente Ma io tifo Petit Perché Perché mi piace Perché Perché Ha una caratteristica Che io trovo Sempre più rara Quindi sempre più Da valorizzare Che si avvicina E cioè che Scandisce bene le parole Io capisco Che cosa dice Quando canta E questo mi piace Mettissimo Poi effettivamente Da quando tu hai messo L'apparecchio acustico Esatto È un segno Di boomerismo totale Anche una caratteristica Tutto Ma invece vorrei Che vincesse un ballerino Ancora Sì Vabbè ma ci sarà Della diversità Sì Marisol Ma quello perché Perché tanto il cantante Guardate Guardate Angelina Mango Non ha vinto E tutti abbiamo in mente Che abbia vinto lei Quindi Diamo una possibilità Di visibilità A qualcun altro C'è una domanda Diversità Fra chi canta Ma anche io che ballerino Ma attenzione C'ho un'altra domanda secca Marisol Petit Se voi foste Uno dei due E foste in finale Più Petit Che Marisol E in finale Sei con la persona Del cuore Del cuore Colicini Coriccioni Cosa fareste? Era come Sangio Con Giulia Eh Cosa fareste? Ve la giocate No Fate il gesto Il beau gesto Tu dici Non farei come fece Nigiotti Nigiotti Se ne andò Se ne andò Per amore di Ma io sinceramente Mi sono fatto un culo tanto Per tutti questi mesi Una cosa e l'altra Lei capirà E evidentemente Prendo e faccio la mia gara Però se sei petit C'è la cosa che dicevamo prima Tanto anche se arrivi secondo È come se avessi vinto Ecco sì No io credo che poi Alla fine Si arrivi dopo mesi Si arrivi in qualche modo Rodati E l'equilibrio Si trovi No Ma penso anche che Se uno dei due Si tirasse indietro Per questo motivo Sarebbe sbagliato Io penso che Si debbano tenere separate Le storie d'amore Ma no Come avevano fatto i Anos 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 A proposito ragazzi Invece chi non può stare separato È Lazza Che diventa papà Quasi può dire Auguri Abbiamo visto anche Le prime I primi I momenti Del piccolino Nell'ecografia Ha già le scarpe Ha già le sneakers A me 100 messaggi Di Lazza È carina Piace proprio E il ragazzo Che bacia scrivere C'è poco da fare Studiare il pianoforte Studiare musica serve Io lo dico sempre Studiare serve Studiare serve Quindi Eh andate a scuola Eh andate a scuola E non marinate la scuola Mi raccomando Allora ci sono notizie Sulle quali non possiamo Stare zitti Si parla Nelle cronache In questi giorni Molto Di X Factor È in atto Una rivoluzione Lo diciamo A beneficio Di chi magari Non l'ha seguito E non perché Ci prendiamo Delle colpe E anche Degli onori Noi come si dice Relata Reifero Siamo dei cronisti X Factor Non è andato benissimo Nelle ultime annate L'ultima Particolarmente Quindi Si è parlato Tanto di rivoluzione Quest'anno Una nuova cantante E dei nuovi giurati Sono già stati Annunciati Anche perché X Factor Rimane a Sky Anche se si era parlato Dei Il Nove Addirittura si era parlato Del fatto che Siccome Amadeus Amadeus Ecco Potesse essere Colui che si prendeva Invece Cacciate i nomi Cacciate i nomi Allora Al posto Di Francesca Michelin Come conduttrice Giorgia Un cambiamento In tanti sensi In tanti sensi Anche in tanti sensi E proprio un'impostazione Diversa Mentre Francesca È più precisione Lo è sempre Anche quando parla Giorgia è più La battuta La risata Il divertimento Mi sembra che Stiano andando Proprio in una direzione Diversa Torna sul luogo Del delitto Manuel Agnelli Manuel Agnelli Torna Ben tornato Io non sono Super fan Della sua Diciamo Lucida Esposizione musicale Però Oggettivamente Uno che di musica Si intende Quindi E poi ha fatto bene Poi ha fatto bene È andato benissimo La quota Vengo e faccio Casino Jack La Furia Secondo me Jack La Furia Che insomma Con i club dog Sta andando In un modo Pazzesco Io penso che Questa sia La vera scommessa E poi l'altra Anche Achille Lauro Non me la scommessa Achille Lauro Però Si Però Uno sa già Cioè Uno sa già Se lo immagina Io Jack La Furia Lì Non me lo immagino Achille Lauro Jack La Furia Manuel Agnelli E Paola Jezzi E Paola Jezzi Stiamo parlando Del duo Paola e Chiara Si separano Due Che si può dire Che si riseparano Beh sì Sì In questo contesto Sì Hanno fatto fronte comune Sempre su ogni cosa Adesso un'altra Comincia a fare una roba Da sola Eh no Non va bene È novello 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 Però quest'anno Manca Vedo che Non c'è più L'inseguimento Alla novità Dell'ultimo momento Al super giovane Bravo Quindi Sky Sta guardando Forse anche In un'altra direzione Secondo me Siamo In un contesto Più generale Siamo In una sorta di frenata Quindi in un maggiore equilibrio Alla corsa esagerata Al super giovanismo Che credo Poi alla fine Non abbia pagato In nessuna Delle direzioni In cui è andata Ma Se volete una cosa Solo per pezzi Solo per pezzi Tan 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 Allora Il Vi ricordate Un'intervista Che Lucio Presta Ha fatto Sul giornale Nel quale Come fare A dimenticarsela Ecco Ha parlato Dell'evoluzione Insomma Del suo Di come hanno fregato Il suo rapporto Con Amadeus Dell'irriconoscenza Di Amadeus Secondo lui Io lì ho visto Una traccia Che potrebbe essere Indicativa Di ciò Che potrebbe fare Amadeus Al nove Che non è X Factor Come si diceva Cioè Ma è una specie Di nuovo Festival bar Perché Se ci fate caso Nell'intervista Viene fatto presente Che c'è stato Uno scazzo Si può dire Sì Sulla cessione Dei diritti Di 70 80 90 Di quella trasmissione Della trasmissione Che è dall'Arena di Verona Con Massimo Alberti Che è una forma Di Insomma Di Passerella Di canzoni Con ospiti Che potrebbe essere Attualizzata E diventare Una specie Di festival bar C'è una mano alzata In classe Adesso finisco Poi le do la parola Signor Studente Io credo Che questo potrebbe essere Il festival bar Di Amadeus Potrebbe essere La nuova sfida Sul nove Va Vado con una cosa Che purtroppo Butta dell'acqua fredda Sui tuoi bollori Sì In qualche modo A vario titolo Con vari nomi E con vari sponsor Ci hanno provato Ma il festival bar È il festival bar Col nome Festival bar Fino a quando Non tornerà E non sarà risolto Quel busillis Ragazzi Non se ne viene fuori I diritti Ce li ha il figlio Di Vittorio Non li sta dando Vittorio Salvetti Ecco Vittorio Salvetti Andrea E siccome il signorino Signore Perché ormai Andrea è grande Non ha ancora venduto Quei diritti O se li ha venduti Chi li ha non li sta dando A nessuno Perché immagino Che ci sia una gara Specialmente con i soldi Di Discovery Ad avere quel marchio Perché è un marchio Fondamentale Oh Non ci dimentichiamo Che è tornata la ruota Della fortuna Su Mediaset Cioè Mediaset ha ritirato in ballo Un marchio fortissimo Con Jerry Tutte le stati Danno in replica Le puntate Le puntate Quindi Fino a quando Qualcuno dirà Sì Abbiamo il marchio E rifacciamo il festival bar Sarà un problema Amadeus Che conduceva Il festival bar Magari Insomma Alla capacità attrattiva Di portare Anche senza il claim Anche senza il logo Festival bar Alla possibilità Di fare Anche grazie Ai contatti Che in tutti questi anni Conseremo si è creato Ma quello è certo Il nome festival bar Non credo Che lui possa fare Ma che la proposta musicale Del nove Non c'è dubbio Ma non c'è dubbio Lo stesso Paolo È stato un festival bar Le stesse cose Che vengono fatte Ma manca il nome Il nome Per me quello è fondamentale Come fare il festival Saremo che non si chiama Però c'è anche da dire Un'altra cosa È vero che tutti i tentativi Che sono stati fatti E che ricordavi tu E che non sono andati Particolarmente bene Non avevano Un altro tipo di nome Cioè non il nome Festival bar Ma il nome del conduttore Così forte Con Amadeus Potrebbe essere Amadeus che ha fatto Festival bar Spesso di passaggio Di consegne Potrebbe essere Una cosa del genere Ma vediamo Vediamo cosa succederà Però certamente Questo è un buco Nel puzzle Della musica italiana Che manca Cioè Amadeus Metterà ancora il piede Nella musica È evidente Sì Buttare gli anni Anni di know how E dovrà fare O Se in futuro X-Factor Se lo porteranno dietro Perché magari Chissà Se quest'anno Non va bene Non funziona ancora Potrebbe essere Che Sky lo molla Definitivamente In tutto il mondo Potrebbe fare una cosa Basata sul vintage Cioè Torno a fare Un 70-80-90 Un revival O addirittura Io oggi Sai che su cosa lo farei Un programma di revival Sugli anni zero È la cosa che funziona Di più Nelle piattaforme streaming Che diciamo tutti Funziona il catalogo Sulle piattaforme streaming Ma il catalogo che funziona È quello del 2000 in poi È vero Io vorrei vedere Un bel revival 2000 No non è ancora Revival 20 anni fa Non è ancora Come no Negli anni 80 Si faceva il revival Degli anni 60 Sì però Sono 20 anni Non lo so Revival anni zero Oppure sì Ci dovrei pensare Così a caldo Non lo so Io vedo Ma Deus Comunque Fare una cosa Una festival Barata In qualche modo Così Ma al di là di questo Al di là di questo È ovvio che Ci voglia Un nome Non soltanto Un claim Un logo Un nome forte Un nome forte Che sono talmente pochi Piccola chiusurina Per arrivare proprio Sul finale Vi piaciucchia Vi intriga Vi stuzzica Vi accarezza Allora la copiata Conti Cattelan A Sanremo Mi torni Su Sanremo Parlo di festival È uscita sta notizia Scusate Quando esce la notizia La notizia va valutata Va pensata Io non penso Cioè Questo che va sul palco Le dice a Conti Stai con il baraccio così? Ah Che vorrebbe dire È la classica Signori e signori Fammi vedere come stiamo vicini insieme Sai che stiamo proprio bene E Cattelan se ne va Cioè Una cosa fatta Sulla Rai In quel caso Nessuno ha detto niente Non è un messaggio Io sono d'accordo Con chi l'ha letto Che è un messaggio Io penso di no No Vabbè Io ho solo un dubbio Che due uomini Scatenino un miliardo di polemiche Questo mi fa Nel senso che La scelta di due uomini E non loro due Puoi prendere anche Chiunque altro Certo Due altri conduttori Maschi Uno Lo farebbero passare Dicendo Vabbè Anche quest'anno Non c'è una donna Ma due Tutte e due uomini La vedo Complicata di gestione Bisognerebbe vedere Magari intorno Se ci fosse questo progetto Io non credo Ma Magari intorno C'è una rete Che equilibra Lo sapete che Antonella Gliel'hanno chiesto Antonella Clerici E lei ha detto Io non lo faccio con nessuno Lo voglio fare da sola Ma anche perché Resta questo dubbio Ne abbiamo parlato Ci siamo scambiati Dei messaggini E io non so Se lo farei insieme A un altro Perché se va male A chi scaricano la colpa E se va bene Chi si piglia i meriti Beh Nel caso di Conti Cattelan Se va male È perché c'è Cattelan Che è fresco Nuovo Se va bene Perché ci sono io A Cattelan Se va bene È andato bene lui Eccetera Ma chiaramente C'è anche Conti Se va male E beh Perché eravamo in due E poi in fin dei conti Insomma dai Io invece Ha già fatto Le cinque conferenze stampa Nel festival di Sanremo Caso A Caso B Io invece penso Che quest'anno Chi va A questo punto Si ha anche Avvantaggiato Nel senso Non potendo fare Gli stessi numeri Per lo meno Nessuno si aspetta Gli stessi numeri Speriamo non gli stessi orari Comunque vada Sarà un successo Io la vedo così A meno che Cioè Ho un nome Super Al di fuori Tipo Carlo Conti Ho un nome Che senso al di fuori Ha già fatto Sanremo Il nuovo Rai Più Rai Tevista Esatto Poi per questo Nel senso Al di fuori Non deve più dimostrare nulla Non è che Al di fuori delle critiche Al di fuori delle critiche Oppure uno Totalmente Uno tipo Cecchetto Nell'81 Cioè Completamente imprevisto E chi prendi Ma se prendi uno come Cattelan Secondo me O va benissimo O gli fai del male Io credo Io posto su Non lo farei Allora basta Abbiamo messo a posto tutto Amici X Factor Sanremo Eurovision Taylor Swift Tutto quello che Abbiamo messo Tanta carne al fuoco Lo stato generale della musica D'altra parte Sennò che pezzi Dentro la musica sarebbe Ciao Ciao Dimenticavo Iscrivetevi al nostro canale YouTube E attivate la campanella Per ricevere tutte le nostre notifiche Per ricevere tutte le nostre notifiche E attivate la campanella